Fari Conti con l'Ambiente, siamo con Barbara Bovelacci, Lab e Camp. Di cosa abbiamo parlato questa mattina? Cose direi molto interessanti anche all'ordine del giorno dalla problematica dell'ILVA e a una cosa interessante che sembra emergere, cioè che poi in fondo in realtà sono problemi molto gravi ma dove la cittadinanza e i lavoratori non sono più così in conflitto come potevano essere in passato ma incomincia a svilupparsi una cultura, una sensibilità che vorrebbe superare il problema tutti insieme, tenendo insieme il lavoro, il sviluppo, soprattutto nel lungo periodo e non più così con queste soluzioni di tampone che poi ci fanno ricadere sempre in questi gravissimi problemi. Oppure una buona prassi come quella di Matrica in Sardegna dove è stato riconvertito il polo chimico con delle metodologie ecologiche e da delle importantissime imprese tra cui la Novamont che si occupano di prodotti ecologici a livello mondiale e quindi anche aprire gli occhi e la comunicazione un pochino più attenta anche a ciò che di buono si sviluppa piuttosto che anche al progetto che io rappresento che si chiama Rai in Carcere Ecco, per me è il tuo progetto che è il motivo per cui sei... E qui siamo nel cuore della questione Esatto, Rai in Carcere, allora chi sono i partner, in cosa consiste il progetto? Rai in Carcere è un progetto che sfrutta moltissimo la rete, si sviluppa a Ferrara, Forlì e Bologna e riguarda una sperimentazione ormai a regime di lavoro in carcere che riguarda i rifiuti, l'ambiente Cosa significa in buona sostanza? Che l'economia sociale, cooperative sociali unite all'economia profit in particolare ERA e i consorzi dei produttori dei rifiuti elettrici ed elettronici, Ecolight ed Ecodon stanno lavorando in autonomia in un ciclo finanziario virtuoso autonomo senza sussidi pubblici per dare lavoro in carcere proprio per ridurre e riciclare rifiuti elettrici ed elettronici e questo è naturalmente una buona pratica per noi molto importante Il nostro vero obiettivo è aumentare il lavoro e le possibilità di rientro e della legalità di persone che vengono dal carcere ma che hanno bisogno a fine pena di reinserirsi aumentare questo lavoro e la cosa significa che vorremmo trasferire questo progetto o comunque incrementare questa buona pratica quindi cercare di raccogliere sempre più materiale e aumentare il livello di riduzione o meglio di riciclo e riuso, la riduzione dell'obiettivo futuro di questo materiale Per fare questo abbiamo promosso un sito che qui lanciamo da pochissimi giorni è online il sito raincarcere.org e qui vi invitiamo ad andare per scaricare tutti i materiali in maniera del tutto trasparente i dati dei laboratori che abbiamo messo in rete e soprattutto ci preme dire che questo sito è aggiornato a Bologna, a Ferrari, a Follì da ragazzi che vengono dal carcere, che sono in esecuzione penale al cui abbiamo dato un ruolo proprio di responsabilità e propositivo in questa azione di comunicazione importante del progetto Grazie Barbara Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro